E Stefania De Michele la nuova presidente della FIDAPA di Sciacca. La federazione italiana donne, arti, professioni, affari che da anni opera nel territorio ha festeggiato ieri sera alla Villa Palocla l'inizio del nuovo anno sociale 2017-2019. La cerimonia è stata preceduta dal passaggio delle consegne tra precedente presidente Virginia San Marco e la nuova Stefania De Michele. Eletto anche il nuovo direttivo, composto da Anna Maria Picone vicepresidente, Donatella Verde segretaria, Antonella Buscemi tesoriera e Virginia San Marco past president. Consigliere Maria e Paola Toto, Silvana Marciante, Antonietta Marsala, Grazia Libasci e Lilli Ciaccio, revisori dei conti Laura Marino, Katia Lombardo e Giussi Di Stefano. Presenti in sala anche cariche nazionali e regionali della FIDAPA. Il sindaco Francesca Valenti e l'assessore Anna Elisa Longi, rappresentanza dell'amministrazione. I presidenti di alcuni club service di Sciacca, quelli del Rotary, del Kiwanis, del Lions Club Sciacca Host ed anche Don Gino Faragone. Nel suo discorso introduttivo, la nuova presidente ha puntualizzato le linee generali del suo programma, che in sintonia con le direttive nazionali e con la collaborazione effettiva delle socie, si aprirà alle indicazioni suggerite dal tema nazionale, la creatività femminile e la cultura dell'innovazione, motori di sviluppo socio-economico-politico, obiettivi e progetti. Stefania De Michele ha infine ricordato il primo impegno della sezione di imminente programmazione, il convegno formativo La Pace si insegna e si impara, che si terrà lunedì 23 ottobre alle 17 all'aula magna dell'Istituto Comprensivo Mariano Rossi di Sciacca, iniziativa elaborata in collaborazione con la UCIM di Sciacca, rivolta non solo alle socie, ma a tutta la cittadinanza. Grazie a tutti.